La stagione estiva quest'anno si sarebbe dovuta prolungare permettendo a tutti di andare in spiaggia e fare un tuffo al mare quantomeno fino alla fine di settembre. Ma il meteo non è sembrato essere d'accordo e da fine agosto ha accompagnato il litorale pesarese con incessanti piogge e basse temperature che hanno dunque compromesso il prolungamento della stagione e spronato i balneari nel liberare le spiagge. Nonostante le mille difficoltà ci eravamo diciamo prodigati per allungare la stagione per arrivare anche magari verso il 20 di settembre però come sempre è il tempo che decide e il tempo ha deciso che le temperature minime la sera vanno sui 12 gradi durante il giorno non salgono mai sopra i 20 per cui è finita la stagione dei bagni al mare. La valutazione che emerge comunque da queste ipotesi di un prolungamento della stagione resta positiva ma soltanto in maniera parziale. In qualche maniera almeno il weekend avremmo potuto dare una risposta a chi voleva fare ancora un weekend al mare ma ci avrebbe permesso anche di chiudere con più calma le strutture e di sistemare le cose in maniera diversa e invece abbiamo dovuto fare veramente una volata finale quest'anno 2024. Abbiamo dovuto ritirare tutto molto in fretta e in più abbiamo comunque eravamo in ansia un po' anche per queste allerte meteo continue che ci sono state sia per il forte vento dei giorni scorsi che per la pioggia insistente che ci aspetterà oggi martedì ma anche mercoledì e giovedì forse smetterà di piovere venerdì mi dicono le previsioni. Si riflette dunque per il futuro chiedendo una migliore organizzazione e soprattutto tempistica così da poter preparare la stagione nel caso dovesse prolungarsi nuovamente in maniera migliore. Le cose vanno programmate, il lavoro va programmato e anche per avere il personale perché è impossibile gestire un lido da sole quindi anche con i dipendenti aver contrattato delle date, delle situazioni. La situazione del salvataggio in cui la Capitaneria di Porto ci ha chiamato il 28 agosto per una cosa che doveva essere un cambiamento delle regole dal primo di settembre è stata una cosa veramente che ci ha messo un pochino in difficoltà. Tolti i lettini e sdraio è tempo anche di bilanci. Si tirano dunque le somme sulla stagione estiva che si è appena conclusa. Come Pesaro, capitale della cultura, doveva essere sinceramente una stagione promettente e all'inizio, in primavera, inizio estate, lo è stata. Abbiamo visto diversi turisti che venivano proprio per vedere la città e che si fermavano anche al mare. Poi abbiamo avuto lo stop delle mucillaggini, lì si è segnato un po' il passo, qualcuno ha cambiato le prenotazioni, ha accorciato, posticipato le partenze quindi c'è stato un momento di stasi purtroppo per il nostro turismo, per questa emergenza ambientale che comunque non era dovuta all'inquinamento ma alle altissime temperature che abbiamo avuto sia in luglio che in agosto, veramente temperature molto pesanti.